Quarta giornata di campionato per il Girone C della prima categoria calabrese. Prosegue la marcia delle fuggitive, città di Guardavalle e Real Pizzo, entrambe vittoriosi negli incontri segnati dalla quarta giornata, il Real Pizzo 4-1 in casa contro il Pino Donato Taverna, il città di Guardavalle con un secco 2-0 in trasferta a Montepone. E proprio su questo campo la squadra di Gesualdo Calabrese ha dimostrato tutta la sua capacità, tutta la sua forza, imponendo il proprio gioco, mai essendo in difficoltà nei confronti della squadra di Pino Sessito e vincendo meritatamente questa partita. Lo stesso cosa ha fatto il Real Pizzo nei confronti del Pino Donato Taverna, almeno per quanto dice giustamente il risultato, 4-1 che non ammette discussioni e quindi restano in testa le due squadre con 10 punte. A seguire la Rombiolese che ha battuto per 1-0 il città di Soverato che nelle trasferte ha qualche difficoltà, è pur vero che ha vinto due domeniche fa, tre domeniche fa a Rosarno, però ha qualche difficoltà a fare qualche gol in più perché potrebbe davvero ottenere qualche risultato più importante. Da segnalare che già da domenica prossima il città di Soverato che giocherà la propria partita in casa la giocherà a Badolato in quanto il campo del Valdassar-Resinopoli è in ristrutturazione, almeno per quanto riguarda il manto erboso. Sul resto della giornata la vittoria della Rosarnese in trasferta alla mezza contro la Promosport e la vittoria ancora in trasferta del Martelletto Settigiano 3-2 contro un Real Palgheria che mai era dopo ma che alla fine si è dovuto arrendere alla squadra catanzarese. Non va oltre l'1-1 del pareggio il Borgia contro il Comprensorio Corace dopo la soluzione del contratto con Fioretti e la squadra del Borgia deve cercare di riprendersi, di risalire la clina perché attualmente è penultimo in classifica a due punti ed è una lontana parente della squadra che l'anno scorso lottava per le zone alte della classifica. Vittoria ancora in trasferta alla fine per la Prasar a Mileto contro il Real Mileto 3-2 che porta in pratica la Prasar nelle condizioni di uscire dalle zone basse della classifica. La classifica è abbastanza allungata in questo caso nonostante siano quattro soltanto le giornate di campionato ricordiamo che alcune squadre dovevano riposare domenicalmente essendo 15 le compaggini e quindi la classifica non veritiere in tutto e per tutto però per il momento dimostrano quanto Guardavallo e Pizzo vogliono fare sul serio in questo campionato.